Per il mondo ammire Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza Per dimostrargli ancora una volta l'amore che non si perde E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione che Egli ha saputo elargire nel corso degli anni Vogliamo dire insieme, Padre, nelle Tue mani consegniamo il Teo Spirito Grazie per la visione